Lexus, il rinomato marchio di automobili di lusso, ha fatto il suo ingresso in un nuovo segmento di mercato con il lancio del nuovo Lexus LM, un'ammiraglia Luxury Mover, progettata per offrire ai passeggeri il massimo relax e comfort. Questo minivan di lusso si distingue per la sua ospitalità eccezionale ed offre due versioni, da 4 e 7 posti. In particolare, il modello a 4 posti rappresenta il culmine dell'ospitalità firmata Lexus, con ampi sedili ispirati ai jet privati, uno schermo da 48 pollici, un frigorifero ed un controller multifunzione in stile smartphone, per regolare l'atmosfera dell'abitacolo. Questo modello è una dichiarazione di lusso e comfort senza compromessi. Questo veicolo segna un nuovo capitolo nella strategia di diversificazione della gamma di prodotti di Lexus in Europa. Il nuovo Lexus LM combina le qualità di un'ammiraglia con la spaziosità e il comfort di un minivan. La filosofia di lusso di questo veicolo si basa sul completo relax mentale e fisico, prendendo ispirazione dai produttori di jet privati e dai businessmen per creare un ambiente che faccia sentire i passeggeri completamente a proprio agio. La silenziosità, il comfort eccezionale e l'attenzione ai dettagli sono state priorità assolute nello sviluppo di questo Lexus LM. Entrando nell'abitacolo, si apprezza il design accogliente spazioso, progettato per rendere ogni viaggio il più confortevole possibile. La versione a 7 posti offre flessibilità con sedili ribaltabili, che possono essere ripiegati quando è necessario un maggiore spazio di carico, mentre il modello a 4 posti è un oasi di lusso con sedili posteriori in multifunzione. Il nuovo Lexus LM è alimentato da un motore 2.5 Premium Hybrid da 250 CV, il primo ad offrire la modalità di guida Rear Comfort, ed offre prestazioni fluide, oltre ad una potenza notevole, insieme ad un'efficienza nelle emissioni che rispecchia l'impegno di Lexus per la sostenibilità ambientale. Si tratta dello stesso sistema propulsivo presente anche nei nuovissimi modelli NX ed RX. La dinamica di guida è in linea con la firma di guida distintiva di Lexus, assicurando un piacere di guida e un comfort senza pari. In sintesi, il nuovo Lexus LM ridefinisce il concetto di lusso automobilistico, offrendo un ambiente di classe e comfort. Questo minivan di lusso rappresenta un nuovo traguardo per Lexus e promette di attirare una clientela che cerca il massimo in termini di relax e raffinatezza nei viaggi su strada.